La macchina organizzativa del torneo internazionale di minibasket Città di Fermo mostra ancora una volta un coordinamento ed una volontà non comuni. L'undicesima edizione si presenta come un grande evento di carattere sportivo, turistico, sociale e aggregativo con il coinvolgimento di un ampio territorio. Durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta presso il Teatro dell'Aquila di Fermo, Sala Rollina, i rappresentanti della SD Basket Fermo che ne cura l'organizzazione insieme ad alcuni amministratori comunali hanno illustrato il programma che si articolerà in sei giornate dal 10 al 15 luglio con dati alla mano, numero dei partecipanti, paesi di provenienza, territorio e volontari coinvolti. A rappresentare la continuità i due coach Marco Marilungo e Maria Principini che hanno svolto e continuano a svolgere un ottimo lavoro con e per i ragazzi. Ammirevole e di fondamentale importanza l'impegno del Comitato Genitori per quanto riguarda l'aspetto organizzativo e non solo, che fin dalla prima edizione ha sostenuto l'iniziativa. Il torneo è reso possibile chiaramente grazie sicuramente agli sponsor, all'amministrazione comunale che ci avvicina, ma soprattutto ai genitori che si mettono a disposizione, si rendono disponibili, mettono la loro passione e energia chiaramente per i loro ragazzi, ma sono parte integrante dell'organizzazione. Diamo rilevanza sicuramente all'aspetto sportivo, chiaramente, ma quello che ci preme sottolineare e dare più ampiezza è il discorso legato all'aggregazione, all'aspetto sociale. Riteniamo che lo sport, soprattutto a questi livelli, a livello giovanile, rappresenti veramente quella che è la palestra della vita. Qui, sostengo da molto tempo, si insegnano e si apprendono, si imparano quei principi che poi si ritrovano nella vita. Qui si impara la sana competizione, la tolleranza, lo stare insieme, rispetto alle regole. E quindi sono quegli aspetti, quelle cose che poi i ragazzi si troveranno nella vita. Dipenderà oltre dai ragazzi di apprendere, ma sicuramente da istruttori. E ci vantiamo, abbiamo la presunzione, l'orgoglio di dire che abbiamo degli istruttori di altissimo livello. Passa anche attraverso i numeri il successo di un evento e lei poco fa in qualche modo ce li ha dati questi numeri. Iniziamo dalle 30 squadre, molte le nazioni. Sì, le proporzioni crescono sempre di più in termini numerici, in termini qualitativi, in termini di organizzazione. Quest'anno le società sono 30 e 6 ne arrivano da varie parti del mondo, dalla Polonia, dalla Repubblica cieca, dal Libano. Sono rappresentate circa 16 realtà regionali italiane diverse, quindi il torneo sta assumendo proporzioni davvero importanti. Noi chiediamo chiaramente lo sforzo da parte di tutti, nello starci vicino, nel sostenerci, perché effettivamente l'importanza, ripeto, le proporzioni crescono sempre di più. È diventato chiaramente un veicolo non solo sportivo, sociale, ma sta diventando anche un veicolo commerciale, turistico e di promozione del territorio. Dicevo in conferenza stampa il torneo nasce come città di fermo, ma il nostro impegno, la nostra progettiva è quello di allargarlo al territorio tutto, perché deve rappresentare anche un modo, un metodo per veicolare tutto il nostro territorio che ha le caratteristiche per meritare questa promozione. 30 squadre formate da giocatori nati fra il 2005 e il 2008 con in più l'Under 15 femminile. 300 cestisti da tutto il mondo che trasformeranno Fermo nella capitale della pallacanestro. Una manifestazione così che riesce a far venire squadre da più continenti, da tante regioni, e per Fermo è un grande prestigio, ma anche una grande occasione per far conoscere il proprio territorio e comunque per fare una economia estiva importantissima e fondamentale. L'undicesima edizione assume anche un altro importante ruolo, quello di essere la prima edizione dopo il terremoto, e sembra che tutto resti come prima, numeri importantissimi, adesioni addirittura incrementate. Assolutamente incrementate, parliamo di numeri, parliamo di presenze, questo è importantissimo. Come manifestazione giovanile solamente questo torneo riesce a movimentare tanto, anzi speriamo che possa essere magari da faro per altre situazioni, altri sport, perché abbiamo hotel pieni, residence marini pieni, bed and breakfast pieni di genitori che seguiranno i ragazzi. Insomma, questo è veramente un'accoppiata utilissima tra sostegno comunale, manifestazione di eccellenza e veramente importanza per la città. Un evento che attraverso lo sport riesce a coniugare anche promozione del territorio e aggregazione. Un evento che ci porta oltre i confini europei, fino al Libano, in Europa, in Jugoslavia, Repubblica Cieca, Polonia e poi in tutta Italia. Quindi un evento che saprà unire e mettere nella sua pentola tutto, lo sport, l'aggregazione, ma anche la promozione di questo stupendo territorio per tutto il mondo. Lo ha appena anticipato, gli ingredienti sono quelli che ne hanno decretato il successo, valorizzazione del territorio, l'internazionalizzazione, ma soprattutto dedicato a una fascia di età importantissima. Esatto, la cosa più bella è far fare sport nel nostro salotto, nella nostra piazza del popolo, ai nostri giovani, non solo ai nostri giovani, che porteranno a casa la cartolina più bella della nostra città e non solo quella, perché altre fasi del torneo, i gironi e altre partite saranno fatte per tutto il territorio fermano. Quindi è la vittoria di un tutto un territorio, non solo del centro storico. Direttore della Valenza di un evento come questo è molteplice. Focalizziamoci un istante sull'impegno per la Fermo Basket. L'impegno è soprattutto attribuibile ai personaggi che ruotano nella Fermo Basket, al di là di me, soprattutto delle famiglie che in parte ospitano e in parte poi contribuiscono a chi partecipando a Rione Murato, dove sarà il nostro centro operativo per la gestione del vitto e l'alloggio di questi ragazzi che arrivano da fuori. Quindi è un impegno notevole focalizzato soprattutto lì. Invece sotto il profilo dell'impegno sportivo diamo uno sguardo, visto che c'è lei ai nostri microfoni, a quello che è stato un pochino il percorso molto bello e sempre in crescita del gruppo. La Fermo Basket si compone di circa 170 atleti, quindi partiamo dai ragazzini, degli aquilotti e arriviamo fino alla serie D del campionato regionale. Qui ci sono tre categorie in gara che sono gli esordienti, gli aquilotti e l'under 15. Quindi noi partecipiamo con tre squadre e speriamo che almeno una di queste tre squadre sia tra le vincitrici del tropeo. Dunque dal 10 luglio, sfilata d'apertura, all'11 luglio alle ore 18 in Piazza del Popolo, 300 atleti provenienti da tutta Italia e da ben quattro paesi esteri daranno vita per tutta la settimana ad un vero e proprio spettacolo che parlerà la lingua internazionale dello sport, nello specifico la pallacanestro. Grazie per la visione!